ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video è da un po che non escono video ma ritorniamo con l'unboxing di questo pacco che è arrivato non è un pacco per me ma lo apriamo è stato chiesto di aprirlo per fare questo unboxing quindi lo apriamo subito dovrebbe essere se non ricordo male vediamo cos'è esatto è una cover è una cover per il iphone 4s noi con 4s subito si fa fatica a trovarle doveva essere cambiata è una cover esiste ancora bellissimo questa questo zigri natura qua sopra è in finta pelle a due taschine qua per portare dei documenti più un'altra taschina qua interna per mettere carte documenti foglietti appunti un sacco di cose poi cosa la chiusura magnetica il foro della videocamera è arrivato il gatto nel frattempo comunque è fatta bene è bella ripiena l'imbottitura questo spessore è tutta imbottitura sto imbottitura molto di certo non si attutisce gli urti diciamo sicuramente gli attutisce questo era la spugnetta di protezione che ci va qua dentro che ha la forma del telefono per evitare che si sporchi che si graffi non so cosa potrebbe succedere comunque è blu mi piace come colore anche poi la chiusura è solida le cuciture le vedo fatte bene quindi diciamo è buona non so quanto hanno speso sinceramente ma ci sta diciamo come ho trovato su internet quindi niente un video unboxing che ho deciso di fare così per ritornare riportarvi un contenuto con gli gameplay sono un po fermo perché non ho avuto progressi perché sono stato fermo sono stato impegnato lavoro e altri impegni quindi cercherò di ricominciare a breve questo è l'ultimo unboxing quindi speriamo che ce ne siano altri altra cosa non farò magari unboxing di questo tipo questo è un un unboxing l'ho fatto perché serve a un mio parente che è per un mio parente che serviva e quindi il pacco lo mettiamo la serviva e quindi gli ho fatto subito però gli unboxing eventuali eventuali unboxing che farò per me però i pacchi da parte faremo un unboxing un unico gigantesco magari uno due o tre pacchi li tengo da parte poi farò un unboxing quando ne ho abbastanza ok c'è il gatto che gioca con la scatola va bene io vi saluto vi ricordo di commentare iscrivervi lasciare dei like e condividere questo video se vi è piaciuto lasciare tantissimi like e spollicciare se avete idee di prodotti lasciatemi commenti qua sotto che vedrò se li vedo per la visione